Ciao a tutti, sono Alcesti dall'angolo del focolare, come abbiamo detto l'angolo del focolare primario, sono ancora qui con la mia nonna e stiamo sistemando le fotografie nell'album di famiglia. Oggi volevo solamente farvi vedere come le distribuiamo nell'album e abbiamo deciso con la nonna che facciamo un bel l'albero genealogico come prima pagina dove scriveremo tutti i nomi di tutti i fratelli della nonna, quanti fratelli hai? 12, quindi è difficilissimo ricordarsi tutti i nomi delle fratelli della nonna, io li ricordo certamente, però se li scriviamo è meglio e così appunto con l'arbitro della nonna scriveremo i nomi di tutti i fratelli nell'album che così li appiniamo magari anche più facilmente alle foto, perché se no non ci ricordiamo più chi è fratello di chi e basta, però cominciamo qua, vi faccio vedere magari come si svolge il lavoro e quindi a dopo ciao Se andando le fotografie da mettere nell'album abbiamo visto delle fotografie uguali quali erano? Ah questa e questa e dicevamo, beh sono uguali, che differenza c'è a metterle, magari guarda se dietro c'è scritto qualcosa di interessante allora, questa era quella che vi ho fatto vedere prima con scritto ricordo di Luigi Tiengo, quindi si tiene e questa, mio cugino, che prima ha fatto da cameraman, mi fa notare, c'è una fila di numeri cosa sarà mai? Che cos'è Fede? La schedina! E perché la schedina? Perché il nonno amava il calcio, metteva il totocalcio e quindi la schedina bisogna tenere anche la schedina, quindi queste foto staranno tutte e due magari che si possano girare perché è importantissimo e che portino fortuna in un futuro quindi queste sono le nostre foto del nonno molto prossimo però molto prossimo e noi continuiamo per facilitare poi l'impaginazione delle foto intanto scegliamo come vogliamo impaginarle facciamo una fotografia digitale naturalmente di come vogliamo impaginare la pagina con l'autorizzazione della nonna perché è fondamentale l'autorizzazione della nonna e così dopo quando attaccherò effettivamente le foto a casa sarà facilitata questo ad esempio è una pagina che abbiamo fatto con le foto della nonna quando era ancora da fidanzarsi pagina 1 o quello che è eccoci qua, questo è il lavoro finito volevo solamente sapere appunto se vi sta piacendo questo lavoro che stiamo facendo non la ti stai divertendo molto sì è interessante, a me piace un sacco fare tutte le foto di famiglia e metterle in ordine ci piace certo ok e per oggi è tutto dal cesto e dall'angolo del focolare fateci dei pollici in su se vi piace il nostro lavoro se vi piace la nonna un sacco di pollici in su ci sarà un sacco di quale cesto e basta e noi continuiamo con il nostro lavoro quindi ci vediamo settimana prossima per vedere magari vi faccio vedere come faccio l'albero di famiglia eh sì certo che lo disegna Chiara ti faccio vedere mi sarebbe che dipinge lei non lo sa ancora ciao 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 ciao